Mi capita spesso, no? Nei commenti, nei direct, di ricevere domande di questo tipo. Luca, secondo te, chi compra la Juve quest'estate? Luca, secondo te, chi c'è della Juve quest'estate? E così via. Va bene, premesso, questa cosa mi fa terribilmente piacere, perché si vede che vi fidate del mio giudizio. C'è però da sottolineare una cosa, io sono solamente un tifoso e mi espongo per dire le mie opinioni, ma non so niente di più di quello che leggete voi sui giornali. Chiunque sia in grado di dirvi, guarda, con certezza accade questo, 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 vi sta mentendo, tenetelo sempre a mente. Probabilmente perché nemmeno i protagonisti, quindi i giocatori, o comunque i dirigenti, o comunque i procuratori, sanno che cosa potrebbe accadere da un momento all'altro nel prossimo calciomercato. La stagione è ancora in corso e al 99.9% il prossimo anno c'è solamente una cosa di sicura nella Juventus. Non dico 100% perché anche qua potrei essere smentito, potrebbe succedere di tutto. Infatti l'unico giocatore che credo di vedere il rosa al prossimo anno è Aaron Ramsey. Tutti gli altri sono in discussione. Da Ronaldo a Dybala, Chiellini, Bernardeschi, Douglas Costa, Shesny, chiunque, chiunque potrebbe partire. E Ramsey potrebbe non arrivare. Certo, c'è quello 0.1%, ma può succedere. Per come la vedo io, alla Juventus tra l'altro serve incredibilmente un centro avanti. L'unico rosa in questo momento è Mario Manzokic perché Ken sicuramente non è ancora pronto per questi livelli di calcio. Lo sarà mai? Non lo so, ditemelo voi. E sempre tornando al discorso delle percentuali, al 99.9% in questo momento, secondo me, il prossimo anno all'Inter non giocherà Mauro Icardi. Sappiamo tutti che cosa è successo, vero? Non sto a ripeterlo. Però ancora una volta io voglio sottolineare che secondo me non è assolutamente colpa di Vanda Nara. È stato un insieme di fattori che ha complicato la relazione tra Icardi e l'Inter. Vanda sta facendo il suo mestiere, quello che fa Raiola e quello che fa qualsiasi altro procuratore. Ovvio che i tifosi non stanno simpaticissimi quelli che gestiscono le immagini dei calciatori e che vanno a chiedere gli stipendi aumentati alle società. Eppure i presidenti e i dirigenti giocano lo stesso giochino, quindi quando va via il calciatore puntano il dito contro il procuratore dicendo Eh, se l'abbiamo ceduto è colpa sua e quindi la tifoseria sposta l'odio da chi l'ha venduto a chi cercava solamente di fare gli interessi del proprio assistito. Bellissimo. In questo momento, a metà febbraio, per quanto mi riguarda, lo strappo tra Icardi e l'Inter non è possibile ricucirlo. E non è un caso che sia avvenuto tutta questa confusione il giorno dopo le dichiarazioni di Paratici in cui diceva che questa estate la Juventus prima di Cristiano Ronaldo voleva comprare Icardi e scatenare un casino. E guardate un po', il casino è stato scatenato anche senza l'acquisto. La Juventus ha emesso dei bond, ha fatto dei prestiti, però ricordatevi una cosa, non sono soldi che vanno utilizzati solo per il calcio mercato, la Juventus ha tantissime altre spese. Altra cosa da sottolineare, non si possono prendere solamente degli attaccanti perché la Juventus in questo momento ha tantissimi giocatori offensivi in rosa. E sinceramente non sono neanche disposto a servicare Dybala per arrivare a Icardi. Eppure i prezzi piaggiati sono quelli, i giocatori con uno stipendio importante sono quelli, e quindi se dovesse arrivare Icardi dovrebbe partire un giocatore per dire Douglas Costa. E sarei quasi disposto a farlo, questo sacrificio. Ma sarei disposto a servicare Douglas Costa anche per Pogba, perché dobbiamo comunque modificare la squadra anche a centrocampo e soprattutto in difesa. Ci serve 1-2 centrali giovani, ma non giovani come Rugani, come Caldara. Giovani forti, giovani che possano prendere in mano la Juventus ed essere il futuro della Juventus, espirando anche della nazionale italiana. CR7 è un po' un'arma a doppio taglio, no? E' fortissimo, ma è arrivato a fine carriera, e quindi ok, possiamo sfruttarlo, ma allo stesso tempo dobbiamo andare a guardare a un sostituto. Ma allo stesso tempo non possiamo solamente guardare avanti, dobbiamo guardare tutta la squadra. Quindi un po' un casino. Lo stesso casino che doveva scoppiare per Icardi, ecco. Voglio però sottolineare che alla Juventus certe cose vengono gestite in un certo modo. Quindi se Icardi non accetta una convocazione dopo che è stata tolta la fascia perché la società ha deciso così, sicuramente non passa inosservato un comportamento di questo tipo. E' anche per questo che mi viene da dire che l'Inter si sta avvicinando sempre più al modello Juve. E guarda caso, all'Inter è arrivato Marotta. Alla Juve pur di non passare sopra un certo comportamento che potrebbe minare l'equilibrio del gruppo, viene ceduto il giocatore, anche se importantissimo. Proprio per questo non credo che Icardi il prossimo anno possa essere un giocatore dell'Inter. C'è anche da dire che si sta parlando tanto di questo mancato renovo di Cardi, no? Beh, siamo nel 2019, il contratto di Cardi scade nel 2021 e c'è una clausola superiore ai 100 milioni di euro in essere. Dopo tutto quello che è successo, sicuramente quella clausola non verrà mai pagata per quella cifra. Ora il punto di forza va nella squadra che vuole andare a ingaggiare Icardi e fa presente all'Inter che ha un giocatore scontento in casa e che vuole andarsene. Se la Juventus dovesse presentarsi con 60-70 milioni di euro e Icardi dovesse esprimere la volontà di voler andare alla Juventus, l'Inter sarebbe quasi obbligata a dover cedere il giocatore per quella cifra. Dico quasi perché non c'è un obbligo vero e proprio. Il quadro, però in poche parole, è questo qua. Per quanto mi riguarda io prenderei Icardi ad occhi chiusi, l'avevo già detto anche nel vecchio video. E da quanto ho capito, anche i palatici, è della stessa opinione. Chissà, chissà che 2 più 2 non continui a fare 4 anche quest'estate, eh?